Ciao polletti! Oh, mi metto il cappello, che meglio! Sono un po' pelato, perché mi raso. Ma questo è Electric Pell e siamo qui per commentare questo fantastico video, ma soprattutto questo fantastico disegno che vedete si sta creando qui alle mie spalle, o qui sopra, o qui sotto, non so dove mi metterò in fase di montaggio. Comunque sia, questo è il disegno per il milione di Surreal Power. Un altro membro dei mates, abbiamo già fatto il disegno per il milione di Stepney, il disegno è stato fatto più o meno tre mesi fa, forse quattro, scusate il ritardo del video, comunque sia, ho registrato il tutto. Probabile che Surreal abbia già pubblicato sui social, quindi siamo ora qui a commentarlo. Come vedete, il solito schizzo di base per decidere più o meno gli elementi, l'inquadratura e tutto il resto, poi si entra nel dettaglio. Qui abbiamo messo gli elementi che ovviamente Vegas mi ha detto, quindi essere quei elementi che sono i principali, vedete i limoni, soprattutto i limoni che appunto Vegas mi ha detto fanno parte del canale di Surreal, ma in generale di lui come personaggio. Vi lascerei quindi a un po' di Radio Peo, come al solito con tanti piccoli peo che ballano un po' qua e là. Ricordate, questo è Radio Peo e siete soltanto sul canale migliore del suo ceppo, ecco. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Inizia ora la fase dell'inchiostrazione, quindi tratti precisi e piccolini, un tratto non molto spesso, ho preferito adottare questa volta, comunque sia quello di Stepney, se l'avete visto, ha adottato un tratto molto più spesso, molto più calzante. Qui ho soltanto fatto dei riempimenti di nero, quella poi per creare queste ombre più forti. Vedete la scritta del milione dietro stile Minecraft, molto minecraftoso, molto quadrattinoso. E questo perché alla fine Stepney comunque sia, il suo canale è sempre stato incentrato, soprattutto in passato, sui video di Minecraft ed è stato uno dei primi a farlo in Italia. Questo che io sappia, ma mi sembra che sia così, e voi penso sarete d'accordo con me, o almeno spero. Vi lascio ancora un altro po' di Radio Peo, questo Electric Peo, la prima scelta diciamo. E questo è Radio Peo 0700825201604251148. Behind this strange signal is an alien intelligence that knows all. E questo è Radio Peo, la prima scelta diciamo. E questo è Radio Peo. E questo è Radio Peo, la prima scelta diciamo. E questo è Radio Peo. E questo è Radio Peo, la prima scelta diciamo. E questo è Radio Peo. E questo è Radio Peo. E questo è Radio Peo, la prima scelta diciamo. 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 La prima scelta diciamo. Radio Peo, 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 la prima scelta diciamo. e questo è tutto polletti questo è il disegno del milione di surreal power spero che già l'abbiate visto pubblicato da surrey stesso arriverà anche il prossimo video del disegno del milione di anima ovviamente che si già ho fatto anche questo tre mesi fa non so se l'ha pubblicato anche lui sui social o comunque sia esiste il video sarà pubblicato prossimamente sempre su questo canale rimanete sintonizzati passo la linea al tg07 con peo peo misetti ok sto forse esagerando sto esagerando questo era electric bub 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 bub